Ciao a tutti e ben ritrovati, oggi andremo ad approcciare i permessi di SQL Server quindi andremo a vedere come crearli a livello di istanza nella successiva lezione andremo ad approfondire come si applicano i permessi all'interno di ogni singolo database in modo da scendere di livello e andare a una gestione più profonda delle grant andiamo subito nel nostro management studio allora quando noi apriamo la finestrella del database e apriamo anche il più su un database vediamo che qui c'è una schedina sicurezza questa la tratteremo nella prossima lezione quindi in ogni caso non inserite grant direttamente nel database il modo corretto per procedere è andare sulla nostra istanza e andare sulla cartella sicurezza della nostra istanza perfetto, se io faccio clic qua mi compaiono delle cartelle allora la prima mi dice tutti gli utenti che si possono collegare al nostro SQL Server e ognuno di esse ha le sue grant specifiche la seconda mi definisce i ruoli che posso applicare ai vari utenti ne abbiamo già alcuni di default ad esempio il public che mi permette di andare a leggere le informazioni piuttosto che il sysadmin che è il permesso, il grado di grant che è stato assegnato a noi quando siamo andati ad installare il SQL Server quindi chi ha il sysadmin accede completamente a tutte le funzionalità del nostro SQL Server chi è public probabilmente potrà solo leggere le informazioni che ci sono nel SQL Server chi è dbcreator potrà andare a creare database nel SQL Server ma non potrà gestire ad esempio le grant quindi questi sono i ruoli, se ne possono anche creare di diverso ma non scendiamo nel dettaglio in questo corso bastano benissimo quelli che abbiamo qui vi faccio vedere ci sono già n utenti c'è il mio, vedete, qui c'è il nome di dominio del mio computer e il mio nome utente che è il mio nome utente Windows quindi questo è il mio utente Windows che si collega al mio sistema operativo qui se vediamo ad esempio ce ne sono alcuni di servizio cosa sono questi utenti di servizio? non andate a cancellarli per nessun motivo altrimenti l'istanza potrebbe bloccarsi ad esempio questo specifico permesso che vi sto facendo vedere qui MS SQL SQL Server Express non so se ve lo ricordate ma in fase di installazione del SQL Server ve l'avevo mostrato dov'è questo utente, dov'è che viene utilizzato questo utente se noi andiamo nel pannello di controllo e poi andiamo su strumenti di amministrazione e poi andiamo sulla scheda servizi e poi qui cerchiamo il nostro servizio di SQL Server adesso lo troviamo, giù 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 eccoli qua c'è il SQL Server l'agent, il browser vedete ce ne sono alcuni che è un po' quello che avevamo nell'istanza vedete ce ne sono diversi perfetto, se noi andiamo qua e accediamo al nostro servizio che è quello che ci permette di accedere poi all'istanza effettiva questo specifico servizio e andiamo poi, vediamo che si avviene automatico e poi su connessione, eccolo qua vedete, quando noi abbiamo installato il SQL Server l'installazione ci ha configurato un utente sulla nostra macchina e il servizio, quando viene avviato in automatico quando accendiamo Windows e il nostro computer o se avete Linux, quello che è insomma usa questo utente qua per avviare il servizio quindi il servizio si avvia, ok, utilizzando questo specifico utente la password che c'è scritta qua non la so però potenzialmente potreste anche andare a cambiare l'utenza fate un utente nuovo nel SQL Server e poi andate a configurarla qua consiglio comunque di non toccare mai queste cose qua ma era giusto per farvi vedere che cos'è e dove vengono utilizzati questi utenti di servizio perfetto, detto questo, chiudiamo la parentesi e andiamo a fare un utente nuovo quindi come si fa a creare un nuovo utente? tasto destro su account di accesso nuovo account di accesso perfetto, si apre questa finestrina qua su in cima possiamo andare a definire la creazione di un account Windows oppure di un'autentificazione di SQL Server allora, io prima di fare questa lezione ho provato a fare anche un utente di SQL Server non so perché con la versione SQL Server Express non riesco a farlo funzionare in nessun modo ho il forte dubbio che sia una limitazione dell'utilizzo di questo tipo di licenza che stiamo utilizzando provando comunque con l'enterprise o con lo standard questo tipo di utenze funzionano senza nessun tipo di problema ho proprio fatto una prova perché avevo qualche dubbio che fossi io che sbagliavo qualcosa però funzionano regolari quindi se create comunque un'autentificazione di questo tipo qua e avete una versione superiore all'Express qui cosa dovete fare? praticamente definite un nome di un'utenza ad esempio utenza Power BI ok? PBI e qui definite una password e gli date la conferma facendo questa cosa qua ok? avendo configurato queste due cose qua e poi le successive cose che vi faccio vedere tra poco l'utente è configurato quindi chiunque abbia questo nome qua e la password potenzialmente potrebbe collegarsi all'istanza e fare tutto quello che gli permettete di fare potreste essere in dieci persone differenti che usano sempre un solo account di accesso che è un account locale quindi si installerebbe qua ad esempio qui non ce ne sono ecco il SA è un utente ok? che è locale all'interno del SQL Server non lo trovate in Windows non lo trovate in Active Directory se avete un dominio e queste cose qua quindi questi qua sono utili se magari dovete darlo magari a una squadra di consulenti che magari si cambiano ogni mese cambiano i consulenti e sarebbe complicato gestire un'autentificazione fissa piuttosto che dovete mandare su dei processi in automatico e è meglio utilizzare un account di sistema sempre fisso e quindi non quello di Windows quindi sapete che potete fare anche questa cosa qua noi adesso vediamo quello di Windows allora quello di Windows come funziona? qui si fa click click su ricerca e esce questa finestrina qua dove qui dobbiamo semplicemente mettere il nome utente che noi vogliamo andare ad abilitare sul mio computer attualmente c'è solo il nome Lodovico il mio nome quindi ho scritto Lodovico faccio controlla nomi e me lo trova perché me lo trova? perché lui qui vedete nella scheda sopra mi dice guarda cerca questo nome qua che io ho scritto qua sotto in questo dominio in questo percorso se noi fossimo in un'azienda che ha più domini ok o specifichiamo qua il dominio ok se ce ne fosse altre facciamo il nome altrimenti se io scrivo solo Lodovico lo cerca in questo specifico dominio ma se ce ne sono altri ok o lo scriviamo qua slash barra sinistra che è quello sopra il tab e poi il nome da cercare oppure facciamo percorsi e qua compaiono tutti i domini lo selezioniamo facciamolo ok e qui cambiamo il dominio così qui possiamo scrivere solo il nome così facendo ok troviamo il nome dentro a quello specifico dominio ok in ogni caso se avete il vostro pc personale avete un singolo dominio è molto semplice se scrive il nome appunto lui lo trova un'altra cosa importante da sapere i gruppi active directory adesso se io faccio così ok io vado a creare un'utenza di accesso con le grant che andremo a decidere in seguito per questo specifico utente quindi questo utente potrà accedere appunto con quelle credenziali ma se io poi mi ritrovo che ho persone che arrivano ogni giorno devo aggiungere persone toglierle per gestire le stesse grant è più consigliato utilizzare i gruppi di sicurezza perché cosa fate create un gruppo active directory che non vi faccio vedere in questa lezione come si fa ok se avete un it o un service desk sicuramente non ci sono problemi per creare questi gruppi qua e voi qui cosa fate cercate praticamente il nome del gruppo quindi nome dominio ok slash nome gruppo ad active directory ok facendo questo cosa fate funziona lo stesso modo dell'utente singolo di windows solo che abilitate un gruppo di active directory quindi se questo gruppo lo dovete abilitare per accedere a uno specifico database ok gestirete un gruppo per quello specifico database dovete fare un altro gruppo per gestire un altro database perché questo che avete appena fatto non deve accedere a quel database si fa un altro gruppo perfetto c'è turnover di persone all'interno dell'azienda che cambiano di ruolo quindi voi cosa fate lo definite una volta solo in sequel successivamente cosa fate fate un ticket oppure modificate voi stessi la composizione del gruppo active directory inserite lì l'utente e sequel recepisce le grant per tutti gli utenti che sono dentro a quel gruppo quindi non dovete andare a definirli una volta ogni volta entrare nel sequel gestire i permessi per ogni utente e fare tutto il giro che magari andate a gestire anche le permission a livello specifico di tabella magari no lo definite una volta per tutti e fine poi inserite gli utenti sul gruppo e avete finito la manutenzione altrimenti potreste trovarvi magari centinaia di utenti da abilitare e ogni utente ha delle grant specifiche con i gruppi si risolvono tante cose cosa molto importante se utilizzate gruppi active directory ricordatevi sempre io spesso me lo dimentico mi chiedo perché non funziona su tipo di oggetto che sta qua su vedete qui c'è scritto utente entità di sicurezza predefinita perfetto clicchiamo vedete qui c'è scritto altri oggetti entità di sicurezza predefinita e utenti però i gruppi sono deflegati di default mannaggia loro quindi quando dovete abilitare un gruppo di sicurezza non lo trovate quando premerete il tasto cerca se non attivate anche questa cosa qua importantissimo per i gruppi sempre attivare questa cosa si fa ok poi mettete appunto dominio nome gruppo fate controllo il nome lui ve lo troverà come l'utente quindi adesso scriviamo Rodovico ad esempio controllo nomi ecco che lui mi ha trovato l'utente perfetto noi facciamo ok lui me l'ha trovato me l'ha messo qua ok basta abbiamo finito con la selezione dell'utente poi in basso noi possiamo dirgli guarda questo utente qua di default verrà impostato su questo database ma non è importante ok lasciamolo comunque così questo utente usa per definizione la specifica lingua qua lasciamo predefinito così quando faremo clic ok metterà la lingua che è installata sul nostro SQL Server in modo che tutti vedano le informazioni con lo specifico formato con cui lavora SQL Server perché qui ovviamente possiamo andare a cambiare le varie cose dopodiché andiamo sui ruoli del server qui cosa succede escono appunto quelle cose che vi dicevo prima se io faccio il flag su sysadmin l'utente è abilitato per accedere in full al SQL può fare qualsiasi cosa gestire le credenziali creare tabelle creare database cancellare cose può fare tutto ok se lasciamo public dipende poi da quello che gli diamo e gli permettiamo di fare dopo allora quindi qua quelli principali diciamo sono dbcreator public e sysadmin gli altri non serve neanche andare a vederli quindi il dbcreator sapete che è un permesso che permette di accedere all'istanza e permette di creare grant però non posso toccare i permessi sysadmin può fare tutto il public dipende da quello che gli abilitiamo successivamente dopodiché la scheda successiva mapping utente ok questo utente vedete qui c'è questa cosa qua qua su abbiamo l'elenco dei database che sono presenti all'interno della nostra istanza sotto abbiamo altri ruoli ok qui ci dice cosa può fare questo utente o questo gruppo Active Directory all'interno dello specifico database quindi se io clicco qua su mcss ok vedete si attiva l'utente ok quindi io potrò con questo utente operare solo su questo database se io clicco questo potrò operare anche su quest'altro database ok a meno che non abbia il ruolo di sysadmin che allora anche se io qua non flaggo niente posso accedere a tutto quello che voglio ipotizziamo che vogliamo accedere solo a questo perfetto andiamo giù vedete e qui ci sono altri ruoli quando io clicco su questo ok perché questo è disattivato si attivano vedete sono diventati ineretti e posso andare a fare dei click perfetto quindi vado a definire delle grant sullo specifico database quindi nel ruolo diamo delle grant generali a livello distanza qui invece sul mapping utente andiamo a definire il ruolo all'interno dello specifico database quindi li potrei dire public e poi si sceglie ancora di livello come vedevamo prima dipende poi dalle opzioni delle grant che andremo a dare successivamente all'interno del database piuttosto che li posso dire guarda tu sei un utente che può solo leggere tu puoi solo fare data reader quindi io ti do questo grant qua questo permesso e tu puoi solo leggere informazioni all'interno del mio database piuttosto che ti do anche quelle di scrittura quindi tu puoi anche scrivere all'interno del database se tolgo quelle di lettura non posso leggere posso solo scrivere gli posso dire che può fare i backup questo utente però non può né leggere né scrivere piuttosto che dico che è db owner quindi questo utente può gestire il database a 360 non lo può creare perché su ruoli abbiamo messo public però dandogli db owner ok quindi il database verrà creato da un utente che ha il ruolo sysadmin e dopo che io l'ho creato gli posso dare la responsabilità del database quindi io lo creo e poi loro se lo possono mantenere come vogliono possono creare le tabelle cancellarle fare le view e gestire i permessi all'interno di questo database in autonomia però non lo possono creare perché sto dando il db owner all'interno di questo specifico database se avessi dato il scusate adesso sono uscito se avessi dato su ruoli db creator avrebbero potuto anche creare database e cancellare eventuali database che sono all'interno appunto dell'istanza quindi è proprio un permesso differente se poi clicco sull'altro posso dare ad esempio vedete su ripristino mi do il db owner clicco su questo database ok e mi do ad esempio il data rider quindi vedete a seconda di dove vado poi a cliccare cambiano i permessi sotto quindi posso andare a fare una gestione delle grant molto specifica per ogni singolo database poi se noi andiamo su entità a protezione diretta perfetto lui mi dice a livello distanza cosa può fare questo utente e sotto si presentano una rella di permessi ok tendenzialmente questo non si tocca si lascia che può connettersi al SQL server ed è legato di default ok quindi io mi posso collegare anche con il manager in studio piuttosto che non voglio potermi collegare e ti permetto solo di collegarti del database perché ti do accesso a quello specifico database e ci accede con un driver adbc fine vi posso dare il controllo del server piuttosto che posso dargli altre cose adesso qua ve li lascio leggere con calma comunque tendenzialmente questa cosa qua non si tocca mai si lascia quello di default poi qui c'è lo stato lo lasciamo così com'è lasciamo concedi abilitato su account di accesso utilizzazioni per la connessione al motore di database perfetto quando noi abbiamo fatto questo diamolo ok e qui si creerà l'utente con gli accessi che abbiamo definito a un database piuttosto che più database e abbiamo dato il livello a grandi linee di gestione di quel database posso leggere oppure se posso scrivere oppure se posso fare qualcos'altro perfetto con questa lezione mi fermo qua e nella successiva andremo a vedere come si gestisce la sicurezza all'interno dello specifico database e scenderemo ulteriormente di livello con la gestione delle grand faccio due lezioni appunto perché è tanta roba e permette di gestire veramente tanta roba il SQL Server a livello di grand come sempre se questa lezione è stata di vostro gradimento lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti e come sempre se volete aiutarmi a far crescere il canale condividete questa risorsa magari nei vostri social con questo vi saluto e alla prossima lezione ciao